Sono 659, età media 37 anni, i nuovi casi di coronavirus in Toscana, dove oggi si registrano 4 nuovi decessi, un uomo e 3 donne, con un'età media di 85,8 anni. I ricoverati sono 325, 8 in più rispetto a ieri, di cui 47 in terapia intensiva. Rispetto a ieri, i contagi sono in diminuzione, erano 791, a fronte però di un numero molto più basso di test e conseguentemente è in forte aumento il tasso di positività. Il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe registra un aumento del 25,2% dei casi negli ultimi 7 giorni, ma con ricoveri che rimangono sotto la soglia di saturazione. Nella settimana, dall'1 al 7 dicembre, nella regione si registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti e si evidenzia un aumento dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente, del 25,2%. Sotto soglia di saturazione i posti letto, in area medica e in terapia intensiva, la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari all'80,8%, la media italiana è del 77,3%, a cui aggiungere un ulteriore 2,7%, media italiana 2,8%, solo con prima dose. Il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 57,4% in Toscana, la media italiana è del 46,8%.